Ben trovati alle TG Med Sport, ben trovato a Salvatore Geraci, ciao Salvatore. Ciao Luca, ben trovato, saluto tutti i telespettatori. Parliamo delle Palermo senza i nazionali, un Palermo che ritrova però Di Bala in gruppo e continua a sperare di poter recuperare l'Afferti che è in preallarme per una convocazione con l'Irlanda del Nord ma di fatto continua nelle terapie e il Palermo spera di poterlo utilizzare nella sfida contro il Pescara si gioca domenica sera alle 20.30, la partita che chiuderà la nona giornata di campionato che prende lo spazio e il posto ovviamente della Serie A, non soltanto nei giorni ma anche negli orari visto che ci sono le soste per la nazionale e sono di quei periodi che gli allenatori odiano perché Iachini in questo momento avrebbe bisogno di lavorare con tutti o potrebbe scoprire delle soluzioni diverse? No, preferisco la prima idea, cioè quella che in questo momento uno preferisce lavorare con tutto l'organico a disposizione perché è chiaro che semina e deve trarre delle conclusioni certo nel momento in cui tu hai un'esigenza del genere poi ti trovi di fronte all'emergenza la devi comunque affrontare lì per quanto riguarda l'attacco abbiamo dei problemi chiaramente importanti perché non soltanto abbiamo difficoltà quando siamo al completo a esaltare un po' le qualità di questi ragazzi che per un verso o per l'altro hanno dei problemi ma figurati se invece poi vengono a mancare determinati giocatori che sono diventati ormai cardine per il gioco del Palermo, per il gioco che comunque si sta impostando tra l'altro con notizie che arrivano dai ritiri delle varie nazionali in primis quella uruguaiana perché già Hernandez era partito con un problema alla caviglia destra di fatto però ritornava in nazionale e ha voluto comunque rispondere alla chiamata della nazionale i medici dello staff dell'Uruguay ovviamente lo stanno mettendo un po' a riposo anche qui è un annoso problema quando si parte si sa in che condizioni si consegna un giocatore e non si sa mai in che condizioni ritornano non solo questo ma c'è anche poi la pressione che ti arriva da una parte o dall'altra è chiaro che un giocatore che va nella nazionale indossa la casacca e ci tiene tanto come Hernandez ha dimostrato, su questo proprio non ci sono dubbi, se viene schierato gli importa poco se c'è il dolorino alla caviglia o al dolorino al ginocchio, alla mano eccetera è uno che si impegna al mille per mille e potrebbe anche facendo un po' gli appositi scongiuri trovare anche degli ostacoli e farsi del male, un male più grave di quello che ha quindi i rischi sono assolutamente notevoli e d'altra parte come fai? se questo è il calcio, se il calcio, il mondo dello spettacolo esige proprio questa intensa partecipazione da parte di tutti sono i rischi che devi pagare perché questo carrozzone continua ad operare il Catania riprende oggi perché ovviamente come abbiamo detto la Serie A è ferma invece ha iniziato già a lavorare il Trapani, ascoltiamo le parole del difensore Luca Pajarullo l'unica ricetta è quella di continuare a lavorare e continuare sulla nostra strada perché sappiamo che il lavoro ci porta ai risultati, in questo momento non sono dei risultati positivi sicuramente sotto il punto di vista di punti concreti, però sotto il punto di vista di gioco, di impegno sicuramente ci siamo e su quello dobbiamo puntare bisogna vedere anche l'organizzazione di gioco delle squadre avversarie perché quando incontri una squadra come il Cesena che occupa la zona difensiva con 7-8 elementi è anche difficile poi creare tante palle gol, sicuramente un po' di fortuna perché se sabato Matteo avesse tirato diversamente sicuramente avrebbe fatto gol e stavamo parlando di cose diverse in questo momento oppure se un colpo di testa mio invece che sulla traversa andava dentro sicuramente ripeto, nel momento la fortuna non ci sta aiutando, però sappiamo che non dobbiamo avere bisogno di fortuna perché siamo talmente organizzati e talmente bravi e completi da poter sopperire anche a questo. Anche lì è arrivato un brodino però in realtà quando parliamo del Trapani ci siamo stupiti in positivo chiaramente, forse troppo nelle prime giornate, in fin dei conti il campionato del Trapani anche questo, cioè ci sta di pareggiare in casa o anche un 1-1 contro il Latina deve cominciare a far scricchiolare qualche equilibrio? Devo dirti Luca che un po' secondo me la storia del Trapani è legata a quella del Catania perché sia pur con differenze sostanziali perché Catania in Serie A e il Trapani in B ed è una matricola. Ieri sentivo il presidente del Catania Pulvirenti in una intervista radiofonica che sono rimasto profondamente e positivamente colpito dalle sue risposte, cioè lui diceva che non c'è una crisi Catania, che sì loro si aspettavano una partenza diversa, ma se dice dovessimo mettere in dubbio tutte le cose che abbiamo fatto in questi anni proprio sarebbe da scellerati, cioè noi andiamo avanti, andiamo avanti per la nostra strada, l'allenatore è il miglior allenatore, quello che è stato considerato il miglior allenatore fino a pochi mesi fa, non è in discussione per niente ed è chiaro che chiediamo alla squadra un comportamento diverso, risultati diversi, una concretezza diversa, ma piano piano ci stiamo arrivando. Lo stesso discorso vale per il Trapani, il Trapani è una matricola, il Trapani deve salvarsi, questi risultati vanno bene, fare punti va sempre bene. L'importante è che non si perda mai la freschezza e la convinzione nelle proprie possibilità. Ti chiedo in 30 secondi, visto che lo Monaco continua a parlare, continua a sparare a zero, non soltanto su Zamparini, l'ho fatto anche su Pulvirenti dicendo speriamo riesca a salvare il Catania, e di Zamparini ha detto manca di lucidità, l'errore è stato mio di andare a lavorare con lui così come con Preziosi. Sono strascichi, visto che la situazione attuale del Palermo tutto sommato è anche figlia di quel periodo, di quel mercato di gennaio soprattutto. Tutti hanno contribuito a una situazione fallimentare, perché io sono sempre dell'idea che se uno mi chiama e mi dice portami sulla Luna e poi ci vuole andare in bicicletta, se io dico sì, adesso vediamo di arrivarci, faccio il gioco del nemico, perché è chiaro che non cado alla prima buca che trovo, figurate nello spazio. È lo stesso il discorso del Palermo dell'anno scorso. Chiunque abbia partecipato a quell'annata, la responsabilità ce l'ha. Se poi la responsabilità ha ad aver accettato, è uguale, è identica a quella di aver operato, non è che poi cambia tanto. Grazie Salvatore, ci vediamo nelle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Rescaf, azienda leader nel settore delle scaffalature metalliche presente sul mercato fin dal 1967. Una tradizione di qualità e una costante attenzione ai nuovi bisogni di una clientela sempre più esigente, sono la forza di questa grande realtà siciliana. Visitando il nostro sito www.rescaf.com troverete diverse promozioni nella sezione e-commerce. Rescaf è a Palermo, in viale regione siciliana 2306. Per info www.rescaf.com